Escludo che ci siano agenti travinieri, finanziari che siano razzisti. Diamo sempre il loro dovere, garantiscono la nostra sicurezza il giorno e il notte, i nostri stipendi è a meno troppo bassi ancora, stiamo cercando di aumentare, abbiamo chiesto anche qualche decina di milioni, ragazzi che si possono pagare straordinarie, la linea 24, che sono riconoscente ad ogni donna e uomo del nostro territorio, hanno tutti la mia vicinanza, e che scrive che le forze donne più sottrazziste, che scrive che è falso.